uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e oggi ragazzi ultima lettera della scritta fortnite la lettera e che ci permette di raggiungere finalmente l'obiettivo della skin segreta sorana dove si trova questa lettera semplicissimo come vedete qua c'è il pantano noi siamo sul ponte che divide pantano dal lago dobbiamo semplicemente raggiungere la parte più alta di questo lampione ed esattamente qua apparirà la lettera e io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live su twitch ciao 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 ciao